La richiesta Unipo non è più continuata? Cosa è stata la sconfitta? Guardi, io so soltanto questo, che una delle più amare pagine, questa ovviamente è una mia opinione, che una delle più amare pagine della magistratura è stata scritta il 29 luglio scorso, quando ero ancora giudice di quel caso ed ero assente per qualche giorno per un incidente domestico, quando fu rispolverata dai cassetti della procura milanese dove riposava senza che io lo sapessi la richiesta che tornava dal Senato per il senatore Nicola Latore, fu rispolverata e fu mandata un giudice che non ero io, un giudice di turno, il quale non attese come appunto in genere si conviene in questi casi il mio rientro, che sarebbe dovuto avvenire dopo qualche giorno, ma decise appunto in due giorni come se si trattasse di una cosa particolarmente urgente, quando appunto si poteva attendere due giorni. Credo che sia una pagina buia per la magistratura, per certa magistratura, che si era battuta appunto nel 92 per l'indipendenza e l'autonomia del giudice.